Buonasera, benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale che apriamo con le Olimpiadi. Arrivata oggi a Malpensa la bandiera olimpica, vessillo dei giochi olimpici invernali del 2026 Milano-Cortina. Ancora tanto il lavoro da portare a termine, ma secondo il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il capoluogo Lombardo sarà pronto. Sentiamo Alberto Carreras. La bandiera delle Olimpiadi Invernali del 2026 di Milano-Cortina è giunta oggi a Malpensa, trasportata dalla delegazione italiana di ritorno dai giochi olimpici invernali di Pechino, appena conclusi. L'Italia ha conquistato 17 medaglie, la seconda spedizione più vincente dal 1997. L'Italia ha conquistato inoltre un podio in otto discipline sportive differenti. La bandiera a Malpensa è stata sventolata dal sindaco di Milano Beppe Sala e dal collega di Cortina Gianpietro Ghiedina. La bandiera olimpica si sdoppia per la prima volta per Milano-Cortina, primi giochi assegnati a due città. Lo ha spiegato il presidente del CONI Giovanni Malogò durante la conferenza stampa all'arrivo. La bandiera olimpica, su indicazione del CIO, sarà custodita presso la sede del comune di Milano e di Cortina e dunque tra poco ci sarà una seconda bandiera che verrà ospitata nel municipio della città dolomitica. Ci sono nuove realizzazioni a Milano da portare a termine come il Palazzo dello Sport Arena a Santa Giulia e il villaggio olimpico nello scalo di Porta Romana. Non c'è tempo da perdere, Milano comunque tra quattro anni sarà pronta, ha detto il sindaco Sala. Oltre all'entusiasmo della positiva prestazione del CONI Giovanni Malogò polemicamente ha sottolineato l'aspetto dei finanziamenti. Abbiamo chiesto un contributo per pianificare i prossimi quattro anni, lo stiamo aspettando da settembre e ancora non abbiamo visto nulla. San Siro aspetta la cerimonia di apertura che potrebbe essere l'ultima manifestazione ospitata nello storico stadio milanese. Milano-Cortina 2026 sarà un'Olimpiade all'insegna della frugalità senza spese faraoniche. Lo ha detto Vincenzo Novare, amministratore delegato dei giochi olimplici che si terranno tra quattro anni nel nostro paese. Sentiamo. A livello di infrastrutture in piatti siamo partiti con un anno e mezzo di ritardo perché l'Agenzia per le infrastrutture ovviamente ha avuto un ritardo rispetto alla nostra fondazione. Però noi in Italia abbiamo tutte le capacità per recuperare, i tempi ci sono, però bisogna mettersi a correre. Quindi grande eleganza, grande essenzialità, grande attenzione agli sport e agli atleti ma non possiamo come paese sostenere spese faraoniche. Quindi frugalità, frugalità è la parola d'ordine insieme a sostenibilità, tecnologia e soprattutto tanta tanta attenzione ai valori che l'olimpismo e il paralimpismo ci mostrano perché è la cosa poi più importante. Noi ovviamente stiamo progettando delle olimpiadi e delle paralimpiadi senza covid, nel senso che se avremo ancora quel problema lì non saranno certo problema le olimpiadi e le paralimpiadi. Quindi sarà una grande festa dello sport, sarà una grande festa del nostro paese. E ora passiamo alla centrodestra, una polemica tutta interna al centrodestra che riguarda le elezioni regionali che ci saranno il prossimo anno. Non so quali siano le intenzioni del presidente Fontana, non sappiamo ancora se lui vorrà candidarsi, nel caso faremo una riflessione, ma Fratelli d'Italia ha un suo candidato, lo ha detto la coordinatrice regionale di Fratelli d'Italia, Daniela Santanchè, a proposito proprio del candidato del centrodestra tra le prossime elezioni regionali. Fontana, tutta la nostra stima è vicinanza politica e umana, dobbiamo capire cosa farà, ma noi siamo pronti e il nome giusto ce l'abbiamo, dice Santanchè. Donno o uomo non lo dico, se no sarebbe troppo facile indovinare, sarà una persona competente che da molti anni si occupa di politica e che conosce bene i meccanismi. Siamo consapevoli di avere un candidato pronto per la sfida della regione Lombardia che per noi è molto importante. Santanchè che poi ha aggiunto non può sempre e solo decidere Salvini, dobbiamo essere uniti e scegliere il migliore. Oggi per tutti i sondaggi Fratelli d'Italia è il primo partito della coalizione di centrodestra e questo deve essere riconosciuto dagli alleati perché in politica funziona così, dice Daniela Santanchè. Arrivata prontamente la replica della Lega, la Lega è ampiamente il primo partito del centrodestra in Lombardia per cui tocca a Matteo Salvini fare la sintesi e avere l'ultima parola sul candidato in Lombardia e come sempre sceglieremo il miglior candidato per la regione e i suoi cittadini. A dichiararlo Fabrizio Cecchetti ed Eugenio Zoffili, coordinatore e vice coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier. A proposito proprio delle parole di Daniela Santanchè che abbiamo sentito poco fa. La Lega in questo momento non pensa a candidature, a posizionamenti, a bandierine da impiantare, aggiungono i dirigenti del Carroccio. Noi ora pensiamo solo a lavorare ogni giorno per dare risposte concrete ai problemi dei Lombardi su tutto, dalla pandemia da cui stiamo finalmente uscendo, alle riprese economiche e all'emergenza energetica, giusto per stare sull'attualità. Poi quando arriverà il momento ragioneremo con tutti e decideremo insieme a tutti quale sarà il candidato presidente per la regione Lombardia, partendo in primis dal governatore uscente Attilio Fontana che a svolto e sta svolgendo un lavoro straordinario. Pertanto, concludono Cecchetti e Zoffili, a tempo debito ne parleremo ma adesso noi pensiamo solo a lavorare per i cittadini lombardi e il territorio lombardo e lo sciamo agli altri il tempo perso per rivendicare posizioni o candidati. Cambiamo argomento, una Milano senza auto entro il 2050 e poi nuove piste ciclabili, nuove linee metropolitane e la realizzazione di una città più sostenibile e a misura Duomo. Il piano d'aria, documento di quasi mille pagine, è stato oggi all'attenzione del Consiglio Comunale. Un'intera città a velocità massima di 30 km orari, una cerchia riservata ai veicoli impatto zero, 100 km di piste ciclabili da costruire, 70 km di nuove linee metropolitane e poi la ciliegia sulla torta, Milano senza auto a partire dal 2050. Questo in estrema sintesi è il piano aria, un documento di quasi mille pagine che viene affrontato dal Consiglio Comunale del capoluogo Lombardo. Dopo 50 giorni dall'inizio dell'anno sono già 35 i giorni nei quali sono stati registrati valori di polveri sottili superiori alla soglia di allerta. Il piano aria prevede passaggi successivi per giungere al traguardo della città senza veicoli privati. Per molti un'utopia, per altri una necessità. Sicuramente andranno aumentati in modo enorme i mezzi pubblici, sia metropolitane che mezzi di superficie. Naturalmente occorreranno ingenti finanziamenti che si spera possono essere rinvenuti tra i fondi europei e fondi statali e regionali. E poi la creazione di una zona, che potrebbe essere area C, dove potranno spostarsi solo veicoli a zero emissioni. Area B, che si vuole ampliare oltre il territorio di Milano, sino a quello metropolitano. E poi tetti verdi sugli edifici comunali. 60.000 m2 di nuovi pannelli solari, 220.000 nuovi alberi. Entro il 2030. Un altro obiettivo è fissato nel 2028 per i rifiuti urbani. Dovrà essere raggiunta quota 75% per il riciclo dei rifiuti, mentre oggi ci troviamo al 62%. Passiamo ora alla scuola. Vogliamo dire con forza che questo movimento va rispettato e ascoltato nelle sue corde più profonde, evitando atteggiamenti snobistici, esorcizzanti, paternalistici o peggio repressivi. È una sollecitazione che rivolgiamo alle istituzioni e all'opinione pubblica, ma soprattutto al mondo della scuola e ai colleghi docenti. Si sono espressi così alcuni insegnanti del liceo Cremona Zappa di Milano, che questa mattina è stato occupato dagli studenti per protestare contro l'alternanza scuola-lavoro e per chiedere in generale una scuola diversa. Secondo i docenti che hanno diffuso questo messaggio, quello degli studenti è un movimento che sta tentando di portare sul terreno della politica e del protagonismo collettivo un disagio profondo e diffuso delle giovani generazioni finora manifestatosi con il silenzio, l'atomizzazione sociale o peggi disturbi psicologici diffusi e i comportamenti aggressivi nella relazione con l'altro, hanno concluso i docenti. Le vicende di questo movimento ci dicono anche della necessità di recuperare da parte di tutte le componenti della comunità scolastica e in primo luogo proprio i docenti uno sguardo critico sull'esistente e una capacità di protagonismo politico sui temi di fondo dell'insegnare smarritosi negli ultimi decenni. E ora parliamo di Covid. Due anni di pandemia hanno cambiato radicalmente le nostre abitudini, i nostri spostamenti e i nostri progetti. Adesso si comincia a intravenire l'uscita del tunnel anche se gli esperti avvertono che il virus è ancora ben radicato tra di noi. Tutto iniziò a Codogno il 20 febbraio del 2020. Sono trascorsi ormai due anni dall'inizio della pandemia con quello che è stato considerato il primo paziente Covid, Mattia Maestri, a Codogno. In due anni in Lombardia sono state somministrate 23 milioni di dosi di vaccino. I tamponi sono passati dai 112 del 2020 al record di 319 mila in un giorno. La situazione è cambiata notevolmente, tuttavia il virus è ancora tra noi e secondo gli esperti resterà a lungo ma con gravità sempre più ridotta. La pandemia ha ammiettuto decine di migliaia di vittime, ha distrutto famiglie, ha cambiato le nostre giornate, i nostri progetti. Dopo il primo malato di Covid, nel giro di pochi giorni i numeri salgono esponenzialmente in Lombardia. 978 nuovi casi in una settimana al primo marzo, 9083 al 15 marzo, fino al picco del 27 marzo con 15.034 nuovi casi positivi in una settimana. La seconda ondata arriva nell'autunno del 2020, quindi la terza nella primavera del 2021, infine la quarta che parte dall'autunno del 2021 e raggiunge il picco il 10 gennaio con 276 mila nuovi positivi in una settimana. Dal 27 dicembre 2020 sono arrivati i vaccini e l'immunità ha inferto un colpo alle ondate precedenti, facendo calare il numero dei ricoverati. Dai 12 mila ricoverati il 14 aprile 2020 si è scesi a 3.719 il 20 gennaio 2022. Va ricordato che nei primi tre mesi di pandemia il 50% dei decessi per Covid registrati in Italia è lombardo. Nel 2020 per l'emergenza Covid la sanità lombarda ha speso 2 miliardi e 182 milioni di euro. Nel 2021 1 miliardo e 770 milioni. A fronte di ristori da parte dello Stato per complessivi 876 milioni nel biennio, 23 milioni di dosi somministrate di vaccino e un'adesione altissima che colloca la Lombardia al vertice mondiale per percentuale della popolazione coperta con dose booster e con il 94% di cittadini con almeno una dose di vaccino. A proposito di Covid andiamo a vedere i dati di oggi della Lombardia. Sono 1.804 nuovi positivi a fronte di 23.790 nuovi tamponi con un tasso di positività nel rapporto tra tamponi effettuato e nuovi positivi del 7,5%. 37 sono i nuovi decessi. I numeri in terapia intensiva si sono liberati 9 posti mentre non in terapia intensiva c'è un incremento di 11. Andiamo a vedere i casi provincia per provincia. Milano 579 nuovi casi dei quali 279 a Milano città, Bergamo 136, Brescia 300, Como 113, Cremona 56, Lecco 31, Lodi 29, Mantua 57, Monzebrianza 153, Pavia 112, Sondrio 34, Varese 111. Continuiamo a parlare di Sanità perché oggi con un importante investimento di 84 milioni di euro che abbiamo deciso di stanziare dal bilancio regionale riprendiamo il cammino per dare una risposta più immediata ai bisogni di cura dei Lombardi. Ad averlo comunicato il Presidente di Regione Lombardia, Tiglio Fontana, in seguito alla delibera approvata oggi dalla Giunta regionale su proposta della Vice Presidente e Assessora al Welfare Letizia Moratti che prevede appunto uno stanziamento di 84 milioni di euro per dare attuazione al piano annuale delle liste d'attesa. Fin dal mio insediamento, ha evidenziato Fontana, ho ritenuto fondamentale accorciare le liste d'attesa per visite e prestazioni. Avevo iniziato prima della pandemia nel 2019 a mettere in campo azioni per ridurre i tempi chiedendo ad esempio alle strutture private di concentrarsi maggiormente sulle prestazioni più richieste. Il Covid ci ha costretto a interrompere il percorso. L'obiettivo è raggiungere e superare per ogni trimestre la produzione del 2019, ovvero prima dell'impatto della pandemia Covid. E sono quasi 1.500 le imprese start-up del settore agroalimentare guidate da giovani a Milano, Monza, Brianza e Lodi nel 2021 e danno lavoro a quasi 3.000 addetti. Andiamo a sentire Alvise Biffi che è membro della Giunta della Camera di Commercio. Sono quasi 1.500 le imprese guidate dai giovani di Milano, Monza, Brianza e Lodi nel settore del food. Occupano quasi 3.000 addetti e nonostante la pandemia sono cresciute dell'1% 2021 su 2020 e del 9% nell'ultimo quinquennio. In particolare nell'agri-food, nell'agroalimentare ci sono 44 start-up innovative che sono il 14% delle start-up innovative nazionali in questo verticale che lavorano sul territorio della nostra Camera di Commercio. Il tavolo giovani che come sapete è l'appuntamento per dare visibilità alle giovani imprese e per creare un network con le imprese mature, le filiere e gli investitori in modo da dare slancio alle attività economiche del nostro territorio avrà il prossimo focus proprio su agricoltura e tecnologia, le soluzioni delle giovani imprese innovative il prossimo 22 febbraio tra le 16 e le 18 online in diretta streaming o presso la nostra sede di Palazzo Turati a Milano. Parliamo ora di trasporti. Per venerdì 25 febbraio a Milano è previsto uno sciopero di 24 ore dal trasporto pubblico cittadino indetto dai sindacati nell'ambito della mobilitazione nazionale per chiedere il rinnovo del contratto nazionale di lavoro e il miglioramento delle condizioni lavorative normative salariali. I sindacati che hanno proclamato la mobilitazione nazionale, come spiega TM in una nota, sono Filt CGL, Filt CISL, Will Trasporti, Faisa CISAL e UGL. Nella medesima giornata e con motivazioni riconducibili al rinnovo del contratto nazionale di lavoro, sono stati proclamati scioperi anche da parte di altre organizzazioni sindacali. Tenuto conto delle diverse proclamazioni, come spiega TM, l'agitazione del personale viaggiante di servizio sia in superficie che della metropolitana sarà possibile nella fascia oraria che va dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio. Il Festival della Missione, in programma a Milano dal 29 settembre al 2 ottobre prossimo, lascia un contest musicale per giovani autori. Il concorso vedrà dieci finalisti che potranno esibirsi nel concerto finale del festival. Sentiamo Anna Maria Braccini. Un contest musicale per parlare delle proprie storie di riscatto, di vita, di speranza, è quello che lancia il Festival della Missione che andrà in scena a Milano dal 29 settembre al 2 ottobre prossimi. Infatti se c'è un linguaggio che può davvero definirsi universale è quello della musica, specie per le giovani generazioni. E proprio pensando ai giovani allora al Festival della Missione ha scelto di promuovere il Song Contest, come spiega Lucia Capuzzi, giornalista e direttrice artistica del festival. Un concorso musicale che accoglie il linguaggio giovanile come potente e mezzo espressivo delle emozioni e occasione di riflessione. Giovani dei 16 ai 30 anni sono così invitati dal Song Contest a inviare canzone di ogni genere musicale che raccontino appunto storie dalle periferie della società verso il centro della speranza. Singoli cantanti, gruppi o cantautori potranno iscriversi a questa iniziativa scaricando dal sito del festival www.festivaldellamissione.it il regolamento ai moduli necessari da compilare entro il 15 aprile prossimo, inviando naturalmente il testo e la musica delle loro canzoni. I dieci finalisti avranno l'opportunità di registrare in uno studio professionale e di partecipare al concerto finale a Milano il 2 ottobre 2022. Le loro canzoni verranno distribuite sulle principali piattaforme digitali nella compilation FDM 2022. Il festival della missione Vivere per Dono si svolgerà come detto a Milano dal 29 settembre al 2 ottobre. È promosso dalla conferenza degli istituti missionali italiani, dalla fondazione Missio Italia in collaborazione con l'Arcidiocesi di Milano. E domani presso la sala Lessi del Comune alle 18.15 verrà presentato il libro A Megliocchi per ricordare la figura di Donaldo Geranzani, scomparso 5 anni fa. Domani presso la sala Lessi di Palazzo Marino si svolgerà un incontro ricordo per fare memoria di Donaldo Geranzani, indimenticato storico rettore del Collegio San Carlo e Cavaliere della Repubblica. A 5 anni dalla morte, l'evento intitolato A Megliocchi, la sfida educativa per una società interculturale, vedrà la presenza di Carlo Fontana, ex sovrintendente della scala, di Stefano Zecchi, professore di filosofia, di Manfredi Palmeri, già presidente del Consiglio Comunale di Milano e tante personalità che hanno apprezzato l'opera educativa di Geranzani a Milano e non solo. Nell'occasione verrà presentato il libro A Megliocchi, scritti e letture per una società interculturale che raccoglie il pensiero e l'insegnamento del sacerdote, curato ed edito dal nipote Alessandro Xat. Il libro sostiene due progetti solidali, la residenza per studenti universitari in zona Chiesa Rossa e la locanda della Fraternità per gli adolescenti di Bollate. Luoghi particolarmente cari a Donaldo che era nato a Bollate nel 1945 e che aveva svolto il suo ruolo sacerdotale anche presso Santa Maria Annunciata in Chiesa Rossa. Bene, con questo è tutto, grazie per aver seguito il nostro telegiornale. Buona serata, restate su Telenova.